Bene, questo è un intervento che vuole premiare il territorio, nel senso che la SMAT svolge il servizio idrico integrato, però per garantire la tutela dell'ambiente, per garantire che determinate acque, e parliamo dei percolati, possano andare a inquinare tutto il sistema ambientale, è stata fatta la raccolta dalle vasche della regione Pozzo, direttamente sulla rete foniaria e tutto viene recapitato a questo impianto, un impianto a elevatissima tecnologia che ci consente di rispondere a quelli che sono i requisiti del codice ambientale.